Io vorrei fare luce e vorrei quindi avvisare anche la dirigenza di Veritas che i consiglieri comunali tengono d'occhio anche le partecipate, visto che probabilmente l'assessore Zuin non lo fa. Il consigliere comunale pentastellato Davide Scano ha presentato due interrogazioni su Veritas perché dopo un attento esame si è reso conto di alcune anomalie all'interno dell'azienda partecipata del comune. Chiediamo con questa prima interrogazione se sia o meno applicato il principio di rotazione che è previsto dall'ANAC come misura anticorruzione e se sia soprattutto applicato nei confronti della dirigente delle risorse umane. Una dirigente che è lì da almeno 22 anni, cioè da lontano 1997. Poi ancora, e questo ovviamente viene motivato dal fatto che c'è un clima pesante in azienda. I sindacati continuano a lamentarsi dei trasferimenti, delle sanzioni disciplinari e soprattutto dei mancati rapporti con l'azienda stessa. E poi ci sono state due sentenze molto importanti del Tribunale del Lavoro di fine 2018 in cui vengono annullati dei provvedimenti disciplinari, dei licenziamenti. E sì, il giudice, diciamo, si è allargato a criticare pesantemente l'operato di Veritas, parlando addirittura di un comportamento non improntato a buona fede. La seconda interrogazione riguarda invece le registrazioni foniche. Sembra che sia stata fatta dal direttore Razzini una disposizione di servizio per vietare le registrazioni foniche, cioè le registrazioni con il cellulare, come banalmente si può fare ora, perché sono state considerate queste registrazioni nel luogo di lavoro come un illecito disciplinare. Ma noi sappiamo che in quelle due sentenze di Tribunale i lavoratori si sono difesi proprio producendo delle registrazioni. E quindi a PA sembra che ci sia stata una sorta di ripicca, una sorta di reazione, a mio avviso scomposta e illegittima, dell'azienda nei confronti dei lavoratori.